guarda vai vai pure che mi sto riprendendo ragazzi ok è tigata ecco l'essere un po' scocci io ho anche chiesto se sono nuove prima se sono nuove? perché aveva maledetta la vescita sono nuove? sono nuove particolare allo scarpone gelofan si chiama lo scarpone marca gelofan buonmosa che è euro Ciao, sono Alessandro Malvolti, sono un'unità ambientale escursionistica di Passi da Gigante. Ciao, sono Davide, sono una guida anch'io, sempre di Passi da Gigante. Ciao, sono Davide, sono una guida anch'io. Un nuovo fisto. Rifugio Battisti, 1760. Ehi là, arrivati, tutti arrivati. Allora, qualcuno vuole lasciare una dichiarazione? Non ce la potrei mai più fare. Vai, vai, tranquilla. Grazie, Alessandro, mi ha spiegato l'idea di questo giro alternativo. Grazie per questa bellissima esperienza, per questo paesaggio domestico, sarei. Grazie al nostro amico John Skywalker. Grazie a Ale e a Davide. Mi raccomando, se vi dicono 10 minuti, non crederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.